e si buttano anche loro su da questo canale Victoria Wolfart alla porta numero 12 per la giovane austriaca, porta numero 13, in tipo sale, la tessalina è ad estende per queste ragazze, porta numero 14, il rischio di levamento ha grande controllo da parte della giovane austriaca, è la parte alta del trazzato, la 23, la differazione di stato estimo per la Victoria Wolfart. Victoria Wolfart, il rischio di topo di 82. Grazie a tutti. Cammino Veraschig è la parte conclusiva del trasalto. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.